Ciao a tutti amici di questo canale! Innanzitutto buone feste e un felice anno nuovo a tutti voi! Gli scorsi anni ho sempre parlato bene dell'Albania e ho cercato di fare video dove la promuovevo. Facevo vedere le cose positive, gli investimenti, i posti turistici. Dedicherò invece tutto il 2020 a parlare dei problemi che ci sono in Albania e lo faccio perché vedo la maggior parte del popolo albanese e anche molti iscritti di questo canale che sono delusi dall'Albania e mi chiedono di non parlarne sempre bene ma di descrivere anche i problemi sperando che qualcosa nel futuro cambi. Anche io, come molti di voi, torno ogni anno in Albania per le vacanze sperando che qualcosa sia cambiato e invece ogni anno mi deludo vedendo che l'Albania ha sempre gli stessi problemi che nessuno risolve mai. Anzi, i problemi peggiorano. E mi chiedo, è possibile che siamo nel 2020 e l'Albania è ancora il secondo paese più povero e arretrato in tutto il continente europeo? Cioè, su 54 stati del continente europeo, l'Albania è il secondo paese più povero. Solo la Moldavia è peggio. Eppure gli albanesi che lavorano ci sono. Lo dimostra il fatto che gli emigrati albanesi lavorano e vivono in Grecia e Italia facendo i lavori più faticosi e più pesanti molte volte e la maggior parte di loro rispetta le regole di questi paesi. C'è anche una minoranza che vuole arricchirsi in modo illecito ma la maggioranza sono persone che lavorano e vivono onestamente. Allora mi chiedo, com'è possibile che l'Albania sia così arretrata e povera con un popolo così lavoratore e con un paese così ricco? Infatti in Albania c'è molto petrolio, cromo, nickel, minerali preziosi e anche molta acqua potabile. L'Albania è il secondo paese europeo con più acqua potabile dopo la Norvegia eppure in molte case manca l'acqua. La colpa è dello Stato che non funziona. I politici che governano l'Albania non sono patrioti ma pensano solo al loro interesse e ai soldi e se ne fregano del popolo e spesso vengono corrotti dalle multinazionali a cui vendono il petrolio e le ricchezze dell'Albania per due soldi. Uno dei problemi che voglio affrontare oggi come inizio anno è il fatto del perché se ne stanno andando via tutti dall'Albania e io do la colpa alla mancanza di uno Stato forte. Ancora oggi, dopo 30 anni, che è caduto il comunismo. Molti se ne vanno e non tornano più oppure ci tornano una settimana all'anno per rivedere i nonni o i familiari che sono rimasti lì. Il motivo per cui se ne vanno è la mancanza di uno Stato forte e se manca uno Stato forte manca anche la sicurezza, la sanità, la legge uguale per tutti, il rispetto del lavoro e dei lavoratori, il rispetto l'un dell'altro. In Albania succede che lo Stato dorme e il popolo che ancora ci vive fa un po' come gli pare. Guidano come dei pazzi senza rispettare le regole della strada e infatti muoiono albanesi ogni giorno in incidenti stradali. Cercano di fregare il prossimo in ogni modo perché lo Stato non controlla. Si uccidono ogni giorno perché le armi sono a disposizione di tutti e la povertà rende le persone più cattive e ignoranti. C'è un grande sfruttamento. Infatti ci sono posti di lavoro dove i datori pagano 100 euro al mese e a volte si lavora anche sabato e domenica e anche i giorni festivi per non parlare della corruzione e tutto questo fa scappare le persone dalla loro patria. Io confronto sempre la Germania e l'Albania e vedo questo. In Germania c'è uno Stato forte e il popolo, siccome ha paura delle leggi e delle condanne, rispetta le regole, butta l'immundizia dove c'è da buttarla, rispetta il codice della strada perché ha paura di pagare le multe, c'è un salario minimo che fa vivere le persone bene, eccetera. Prendo spunto dalla Germania. Anche l'Albania si dovrebbe basare su regole severe perché se un cittadino non ha paura delle regole non le rispetta. Infatti, gli albanesi per bene quando vanno in Germania rispettano le regole, guidano normalmente, buttano l'immundizia dove c'è da buttarla, pagano le tasse e lo fanno perché hanno paura dello Stato e questo meccanismo funziona in tutto il mondo allo stesso modo. Un altro esempio è l'Albania comunista che aveva regole fortissime e severe e non c'era neanche un omicidio all'anno, potevi uscire alle tre di notte e non ti sarebbe mai successo nulla. Gli albanesi, con uno Stato forte, rispettavano le regole meglio che in Svizzera. E' per questo che molti albanesi se ne stanno andando dall'Albania, per la mancanza di uno Stato che funziona. Nel passato gli albanesi andavano soprattutto in Grecia e Italia, ma da un po' di tempo scelgono Germania, Inghilterra e Svizzera, dove c'è più legge, più rispetto delle persone, rispetto dei lavoratori, lavoro pagato giustamente e tasse che non opprimono le persone. E purtroppo l'Albania non gli offre neanche una di queste cose e neanche le minime condizioni di una vita decente. Come ho detto prima, gli albanesi sono un popolo di lavoratori e studiosi, ma che è stato condannato da uno Stato che non funziona. E questo lo dimostra il fatto che molti scienziati, medici, personaggi famosi, calciatori e perfino politici in Germania, Svizzera, ma anche in America, siano di origine albanese. In Albania non avrebbero avuto la possibilità di dimostrare il loro valore, visto che in Albania diventi qualcuno se paghi o se hai le conoscenze giuste. Anche se non sai fare niente, puoi diventare qualcuno. Mentre nel Nord Europa tu vieni messo a lavorare in base alla tua intelligenza e alle tue capacità, non importa quali amicizie tu abbia. L'Albania è da anni che si sta privando delle persone più intelligenti. Ci sono stato a novembre in Albania e purtroppo ho visto questa realtà con i miei occhi e cioè che era deserta. Solo gli anziani sono rimasti o i criminali che hanno fatto i soldi fregando gli altri. È chiaro che se vai ad agosto o per Natale è pieno di gente perché ritornano gli emigrati. Ma durante tutto l'anno è un deserto tranne Tirana che è un po' più affollata visto che è la capitale. Purtroppo i politici che ci sono ora in Albania sia socialisti sia democratici sono amici l'uno con l'altro fanno finta di litigare ma poi si dividono i soldi rubati al popolo. Abbiamo visto sia i democratici e sia i socialisti al potere e non hanno mai fatto politiche serie per cambiare il paese. hanno fatto solo degli investimenti per chiudere la bocca alla gente. Anche il lungomare di Valona dobbiamo ringraziare l'Europa che ha investito e non i politici albanesi che se ne sono presi il merito. Vi racconto un episodio mio personale. Ho un piccolo terreno in Albania in una posizione molto turistica. I funzionari statali lo hanno dato a un'altra persona che li ha corrotti e ora mi tocca girare nelle sedi giudiziarie per riaverlo indietro pagando fior fior di quattrini. Questo la dice lunga sullo stato che abbiamo e chissà a quanti è successa la stessa cosa. Molti emigranti albanesi mi contattano e mi dicono che non vogliono neanche tornare in vacanza in Albania per il fatto che vanno in vacanza e invece di rilassarsi si stressano di più per tutti i problemi che ci sono. Ed è un bel problema perché se l'Albania perde i suoi emigranti è finita. Se l'Albania non è fallita finora è soprattutto grazie a noi emigranti dell'Italia soprattutto che mandiamo soldi ai nostri parenti poveri e facciamo entrare denaro nel paese. Ma noi emigranti siamo stanchi e ci stiamo stufando che dopo 30 anni l'Albania sia ancora così indietro la società albanese si è degradata troppo. Questo è il primo video di quest'anno. Ti invito se non vuoi sentire la realtà sull'Albania di non guardare questi video per il fatto che la realtà fa male a volte ma sono convinto che gli albanesi meritano molto di più dal loro paese e invece sono molto delusi perché è da 30 anni che è finito il comunismo e oggi molti lo rimpiangono. Si mangiava meno ma c'era la sicurezza la sanità le regole il lavoro si lavorava tutti per il bene del paese lo Stato ti garantiva una casa e confrontando la democrazia che c'è oggi non c'è da sorprendersi che lo rimpiangono. Per ultimo ci tengo a dire che faccio questi video perché sono ancora patriota e ci tengo che l'Albania cambi. Se non alziamo la voce e protestiamo anche così come faccio io con poco l'Albania non cambierà mai ed è un peccato perché dovremmo avere tutti rispetto per il sacrificio degli eroi albanesi che hanno combattuto per l'Albania e pensare anche ai nostri figli che cresceranno e vivranno in terra straniera e non dove dovrebbero mentre oggi non c'è più patriottismo e comanda il dio denaro. E lo faccio anche per noi emigranti albanesi che abbiamo il sogno di tornare in un paese europeo normale non chiediamo che sia la Germania ma almeno che sia come la Croazia ma non possiamo tornare perché l'Albania è ferma da 30 anni. Commentate pure ed esprimete un vostro pensiero ho molti temi di cui parlerò nei prossimi video tra cui rifiuti sanità infrastrutture sicurezza lavoro è altro un saluto a tutti di cui Grazie.